Il quattro incontro faremo l'astrologia e il determinismo astrologico, l'influenza astrale, medicina astrologica, l'ultimo incontro faremo saturno e la malinconia, la malinconia d'amore, la magia e il giambattismo della morte. Questi altri dettagli ricorre il centro magno della morte, diciamo che il 4% di anni fa stanno nella morte. Bene, allora partiamo.